Penso di poter parlare anche di tutti quelli di Borgo Maurizio, se non stanno in un'usia per come vissuto con polvere, gattieri, strappi e rotti per ottenere pochissimi posti in più. La via veniva del Palazzo è un problema complesso e differente per chi ha la parte superiore del borgo e chi ha la parte inferiore. Gli attuali 66 posti disponibili contro una richiesta di video del 100 ci fanno vivere con disagi quotidiani che non si risolvono con una zona a più limitato e con un'uscolare. Soluzioni che si riferono poi, raggiungendo un problema è l'archigge delle mediate zone di nitrofe del pomo e di video del solito. Ripetisco essere un problema complesso, che sia difficile trovare soluzioni per conti in più, ma che va affrontato, studiato e risolto, insieme ad abitanti al borgo, alle associazioni, ai comunitati, al cui interno siano solo presenti, e quindi fuori più sottolinearlo, persone che conoscano il problema, ma soprattutto si adoperano gratuitamente tutto l'anno per promuovere iniziative e manifestazioni che mirano a consolidare la conoscenza del nostro territorio, della nostra storia e delle nostre protezioni. Per questo motivo ringrazio l'assessore Lozacarana che si è disponibile in un confronto con i cittadini, incominciando a confrontare i comitati, per cui ci impegneremo, e io infatti do al mondo, affinché questo sia solo inizio di un confronto produttivo che porterà decisioni utili e condivise per i gravi, per i carni e 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 per le carni e per i 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 carni e per